Buongiorno a tutti, siamo in diretta con Jonathan Lobati, candidato consigliere di Forza Italia per le prossime elezioni regionali. 29 anni, quasi 30, sindaco di Lenna. Come stanno andando questi ultimi giorni di campagna elettorale? Innanzitutto buonasera a tutti. Campagna elettorale intensa, una credo delle più brevi che c'è stata nella storia della politica recente, e molto impegnativa chiaramente perché se la si vuole fare bene concretamente porta via tanto tempo, tante attenzioni, però stiamo lavorando forte e dai, ci siamo quasi. Ti abbiamo visto tanto sul territorio, sempre in visita nelle comunità, nelle aziende, sensazioni per questo voto? Hai buone possibilità di entrare in regione? Io credo sensazioni molto positive, adesso siamo agli sguoccioli, mancano davvero due o tre giorni al voto, molti giri sul territorio, aziende, abbiamo incontrato alle famiglie, mercati, gazebo, veramente un impegno che non è stato ovviamente rivolto solo a Val Bremannano, ma tutto il territorio provinciale, chiaramente proprio per il tempo che ci si è dedicato, penso anche che ci sarà un risultato positivo tra qualche giorno. Ecco, una campagna che tu stai vivendo anche in modo molto sereno e tranquillo, episodi di qualche giorno fa, un tuo manifesto, un paio di manifesti vandalizzati, l'hai presa a sorridere con filosofia? Ma sì, assolutamente sì, io credo che nella campagna elettorale sia, non dico tutto permesso perché così non è, però può succedere, le tifoserie, ogni tanto anche la polemica aspra, il manifesto strappato io dico che bisogna un po' prenderle con filosofia, chiaramente ogni candidato ha i suoi amici, amici di partito che si danno da fare e in questo vedono un po' come una sottoforma di battaglia in senso positivo, però alla fine tutti siamo impegnati trasversalmente tutti i partiti per il bene a collettività, perciò sono cose che vivo con grande simpatia e questo devo anche dire che mi ha fatto proprio sorridere, perciò ringrazio anche chi l'ha fatto, proprio con grande spirito. Ecco, andiamo un po' invece nei temi di questa campagna e nel tuo programma, sei un amministratore giovane della Val Brembana, questi due temi giovani e le valli bergamasche sono al centro del tuo programma, c'è qualcosa che vuoi portare in Lombardia? Per forza di cose, è chiaro che quando uno è un rappresentante di un territorio ha maggior ragione un sindaco, un consigliere provinciale che nonostante 29 anni ha un discreto curriculum amministrativo politico alle spalle, possa raccogliere le istanze del territorio e portarle in questa istituzione estremamente importante che è quella del consiglio regionale. È chiaro che essendo sindaco di Val Brembana parto dai primi temi, la variante di Zonio, la villa d'Almeda Almine, ma non solo i servizi di montagna e le strade di montagna, le frane tantissime che ci sono state e dove dovremmo lavorare per mettere delle risorse dedicate. La montagna ha bisogno di attenzioni, tante, non a parole ma nei fatti e credo che questo lo possa portare solo un rappresentante che arriva dalle valli. Questo non vuol dire che saremo rappresentanti solo di un'area della provincia perché poi in regione Lombardia dovremmo essere difensori di Bergamo da Mozzanica a Ornica, da Val Bondione a Calusco. Perciò lavoreremo davvero come consiglieri bergamaschi per rappresentare al meglio questo territorio importantissimo, uno dei più importanti che ci sono in regione Lombardia. Un altro tema è quello legato alla viabilità, c'è la linea 2 della TEB che in fase di discussione c'è anche la questione delicata della venta del sedime ferroviario. Sì, sono due tematiche che sono strettamente connesse tra loro. Come chi mi segue sa benissimo che sono stato uno dei promotori della raccolta firme per tornare a parlare della tramvia della Valle Brembano, un tema che parte da lontanissimo perché ormai è qualche anno che c'è un progetto già sulla carta, anche se alle fasi preliminari. Io ne sono un grande sostenitore da sempre perché lo trovo un metodo di trasporto sostenibile e soprattutto che dovrà andare a risolvere l'accesso a Bergamo non solo per la Val Brembana e per la Valle Magna ma per tutti quei paesi che si trovano nella parte nord della città di Bergamo. Resto convinto che sia una delle priorità, che andrà finanziata e non sarà facile trovare tanti milioni che servono. Stiamo parlando di numeri a tre cifre, perciò non è sicuramente un problema che risolveremo domani mattina. Sul tema invece della vendita dei sedimi credo che ogni tanto si faccia una polemica proprio a fini elettorali e qui lo dico con grande serenità. Sul tema di San Pellegrino c'è una grandissima azienda che porta un marchio di un comune della Val Brembana in tutto il mondo con merito sinonimo di qualità e che ha deciso di investire non altrove in Val Brembana con un progetto concreto di valorizzazione di un'azienda ma non solo, ci sarà un museo dell'acqua e questo, dato che non lo dico io ma lo dicono gli esperti a livello globale, oggi tira molto il turismo gastronomico, credo potrà dare a quella area geografica che è la Val Brembana un impulso in più che oggi si serve come non mai. Sul tema delle vendite dei sedimi, se la programmazione provinciale prevede che lì c'è un sedime, il sedime deve rimanere e questo è fuori dubbio, non lo deciderò io, non lo decide neanche chi oggi fa questo tipo di polemiche così. Il sedime resterà anche se traslato di qualche metro, questo è quello che ha deciso il comune di Zonio. L'importante è che una traccia per poter passare in un giorno, non so quando, resti e credo che dovremmo difendere questa traccia. Questo non vuol dire che bisogna lasciarla lì, qui stiamo parlando di spostarla di qualche metro, zona esondabile, non zona esondabile, non cambia nulla, siamo nella stessa zona perché il piano, dato che un posto che conosco molto bene, sento in Val Brembana, vuol dire poco. Credo che invece bisogna sostenere chi decide di investire in Val Brembana, non sulla San Pellegrino, stiamo parlando delle tante aziende che ho deciso di visitare anche in questo periodo di campagna elettorale, in tanti è stato semplicemente un tornare perché ho fatto un giro molto importante di aziende in questi quattro anni di mandato sia da consigliere provinciale che da sindaco, alcuni le ho conosciute meglio in questa campagna elettorale e ho raccolto un po' da tutti tante preoccupazioni di un clima che deve tornare sicuramente un po' a favore a chi decide di investire in questi territori difficili, come quelli in montagna. Ecco tu sei amministratore a Lenn, un territorio come dicevi adesso difficile di montagna nella Val Brembana che ha tanti problemi, alcuni li hai citati tu adesso, hai cercato di fare qualcosa per avvivare il tuo paese, ne pensiamo ad esempio al Trofeo Lunare che è stata una gara sportiva di sci di fondo, un evento storico che legava il turismo allo sport, è questa una lega, una formula magica che può funzionare anche in regione? Ma io non mi sono mai ritenuto un genio, non lo so, non consente intellettivo molto medio, però credo davvero che un giovane debba portare in politica questa freschezza, questa voglia di fare, io credo davvero che la politica oggi debba tornare a sostenere chi ha voglia di fare, sostenere i progetti giovani ma non solo, la pista di fondo ne è un esempio di quelli più lampanti, un'idea nata così da ridere, il mio vice sindaco che si è impegnato su questo tema con un imprenditore importante, una serie di volontari e da lì è nata una cosa concreta che è piaciuta tantissimo, l'avevano proposto un primo anno, hanno ritornato a quest'anno e da lì vediamo l'entusiasmo che c'è, è stato premiato credo davvero la voglia di fare, un'idea originale e abbiamo preso quello che era il problema più grosso di Leno, il freddo, siamo conosciuti per essere un paese di fondo valle, per un paese dove c'è particolarmente freddo in questi periodi o stamattina era proprio così, per aver preso un problema, l'aver fatto diventare una risorsa, ma questo è solo un esempio se ne possono dire tanti altri, credo che dovremmo sostenere soprattutto come giovani chi ha voglia di fare, tanti amici, tanti coetanei, tante persone che hanno lo spirito e trovano magari nell'amministrazione a tutti i livelli, non quella collaborazione, quella collaborazione che chiaramente deve andare in una direzione di semplificazione burocratica, se ne parla sempre, sempre un impegno rimandato da elezione in elezione, credo che sia giunto il momento di dire basta, i miracoli non li faremo, ma un impegno in questa direzione ce lo prendiamo anche davanti agli lettori di Bergamo News. Ecco facciamo un passo avanti, immaginati già consigliere della regione Lombardia, quale sarebbe il primo tema o quello che tu consideri principale da affrontare? Io credo che bisogna lavorare su tanti temi, non solo uno, è chiaro che se parliamo di Valle Brambana il primo tema è e rimane la variante di Donio, non c'è una sola persona della Valle Brambana che oggi non alzi le mani dicendo che questa è la priorità, ma quello anche per ridare una credibilità molto forte alla politica, in questi anni non dico che abbia sbagliato, ma però non ha messo davvero come priorità questo punto che per la nostra area è molto importante, ma questo non vuol dire che bisogna fermarsi lì e dire abbiamo fatto davanti i giorni che si è visto, si è visto, anzi, tutt'altro. L'impegno deve andare in direzione soprattutto delle persone, noi, lo dico come Forza Italia, insieme a Stefano Bagnini che è candidato alla Camera dei Deputati per il Collegio di Bergamo, abbiamo visitato alcune associazioni, un centro disabile sul Lago di Seo, tante realtà e tutti ci chiedono di tornare un po' all'attenzione verso la persona, una persona non più vissuta con un numero, ma come una persona con i suoi problemi, i suoi pregi, i suoi difetti e sostenere quelle tante criticità che ci sono anche in campo sociale e sanitario che riguardano un po' tutto la provincia di Bergamo. Unito a questo chiaramente continuare quello che è stato fatto, noi non siamo un'amministrazione di rottura, continueremo, secondo me la Regione Lombardia è una buona macchina e le buone macchine non si cambiano, si aggiustano se ci sono alcuni problemi e dovremo lavorare per migliorare su quei 3-4 temi dove si può fare qualcosa di meglio. Sempre in caso di elezioni ricordiamo che il regolamento della Regione ti imporrebbe di lasciare la tua fascia da sindaco, una decisione che ci sembra di capire prenderesti con un po' di rammarico. Assolutamente sì, è chiaro, glielo dico anche in maniera simpatica, l'ho detto già diverse volte, io quando avevo 5 anni, quando mi chiedevano cosa volevo fare da grande, ho sempre sostenuto il sindaco e questo rimane una vocazione che resterà, perché io credo che chi è sindaco, e questo lo considero per i miei predecessori, si resti sindaco tutta la vita. Questo non vuol dire, io lo vedo nella parte più nobile della carica, ma perché il sindaco è quello che rappresenta un'amministrazione, un'amministrazione è che il giorno dopo ci sarà ancora. Purtroppo c'è questa legge che riguarda solo la Regione Lombardia, dobbiamo dirlo, non si capisce come mai si possa fare il parlamentare restando sindaco e non si possa fare il consiglio regionale restando sindaco, questo lo dico con un po' di rammarico perché è chiaramente un incarico sul quale sono stato votato, che credo di aver portato avanti con alti e bassi, perché poi perfetto non è nessuno in maniera dignitosa in questi 4 anni di mandato, questo non vuol dire che il giorno dopo mi dimenticherò di Lenno, ho deciso di restare a vivere in Valbremmana e resterò a vivere in Valbremmana come sempre e ovviamente cercherò di rientrare come assessore esterno per continuare quei progetti in cui credo profondamente e sicuramente credo che per un comune di montagna avere un cittadino che faccia anche il consiglio regionale non sia un male ma sia un bene, ecco, sostanzialmente. Bene, noi ringraziamo Jonathan Lobalti, ricordiamo candidato consigliere della Regione Lombardia per Forza Italia e rinnoviamo l'appuntamento con i nostri elettori a tra poco per un'altra chiacchierata elettorale. Grazie.